Si parla amici di Passione Inter di Raja Nainggolan. Merita o no un'altra chance all'Inter? Un giocatore molto discusso, chiaramente molto discusso negli ultimi giorni perché è rientrato ufficialmente all'Inter dal prestito al Cagliari. Giulini, il presidente del Cagliari, ha ammesso che ci sono delle difficoltà evidenti per consentire il ritorno di Nainggolan al Cagliari e quindi Nainggolan potrebbe tornare un calciatore utile a disposizione della Rosa per la nuova stagione di Antonio Conte. Abbiamo sottoposto nella giornata di ieri questa domanda, quindi non a caso il tema di oggi su Nainggolan, abbiamo sottoposto questa domanda ai nostri lettori sul canale Telegram Passione Inter e anche un po' a sorpresa, il 90% delle risposte circa ha affermato che sì, Nainggolan merita un'altra chance all'Inter. Quindi circa il 90% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio è dalla parte di Raja Nainggolan, una risposta anche un po' a sorpresa perché non ci sono dubbi poi sull'affetto che il popolo nero azzurro nutre nei confronti di Nainggolan, però insomma un 90% contro un 10% è un numero abbastanza eclatante, anche eloquente allo stesso tempo. Di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Che il giocatore è ed è stato nelle ultime stagioni Raja Nainggolan? Parliamo di un calciatore che leggendo qualche numero la scorsa stagione ha collezionato in totale 29 presenze, di cui 26 in campionato, ma soprattutto ha realizzato 6 reti e 6 assist. La curiosità è che l'anno precedente con la maglia dell'Inter aveva realizzato 6 reti in 26 presenze, però 3 assist, quindi 3 in meno rispetto alla scorsa stagione. Insomma, per un centrocampista che funge spesso da mezzala, che può anche giocare da trequartista, sono numeri abbastanza importanti perché sappiamo come l'Inter abbia sempre bisogno della presenza di questi calciatori bravi ad attaccare l'area di rigore, e Nainggolan è uno che la sua presenza in termini realizzativi la fa sentire decisamente. Perché potrebbe essere rilanciato dall'Inter e perché non dovrebbe finire al Cagliari? Innanzitutto il Cagliari ha fatto di tutto, Di Francesco è arrivato a Cagliari parlando col presidente Giulini, ha chiesto innanzitutto la riconferma di Nainggolan, però Giulini è stato abbastanza schietto, onesto, perché per Nainggolan la situazione è molto delicata. Lo scorso anno il Cagliari è riuscito a prelevarlo in una situazione particolare, l'Inter aveva bisogno di cederlo anche in prestito, perché aveva praticamente mandato via Perisic, Cardi e Nainggolan, quei calciatori che avevano creato qualche problemino dal punto di vista comportamentale. Quest'anno la situazione è diversa, perché Nainggolan sembra avere voglia di riscattarsi, e quindi potrebbe rimanere con Antonio Conte, Antonio Conte è un allenatore che stravede per Nainggolan, se consideriamo che quando Nainggolan vestiva la maglia della Roma, Conte sulla panchina del Chelsea lo aveva avvicinato. Ma l'Inter, chiaramente non lo considera un titolarissimo, ma come aveva già detto Ausilio, è disposta a dare un'altra chance a Nainggolan, a patto però che nel corso delle settimane il comportamento di Nainggolan si dimostri all'altezza del club nero-azzurro. L'Inter dunque è ancora disposta ad accettare delle offerte, ma solamente a titolo definitivo, non più in prestito. Dal momento che il valore di Nainggolan si assesta sui 15 milioni di euro e l'Inter non può concedere altri sconti per non incappare in una minusvalenza, l'affare per il Cagliari diventa complicato, ma non solo per il Cagliari, ma anche per qualsiasi altro club in un mercato molto complicato per quanto riguarda le finanze e le economie delle società. Per questo motivo Nainggolan potrebbe rimanere all'Inter. Un giocatore che dal punto di vista tattico non avrebbe problemi, che non darebbe problemi a Conte, visto che può essere utilizzato in tanti moduli. Nel 3-5-2 potrebbe fare la mezzala, c'è anche il 3-4-1-2, e in questo modulo potrebbe fare sia il centrocampista centrale, quindi nel 2 di centrocampo, che il trequartista, visto che il trequartista è un ruolo che ha svolto, con ottimi risultati, al secondo anno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma. Se l'ha inventato trequartista, obiettivamente ha dato parecchi frutti, soprattutto in zona realizzativa. Per questo motivo Nainggolan potrebbe rimanere all'Inter, i tifosi sono ampiamente d'accordo, il valore del calciatore non si discute, e lo ha dimostrato la scorsa stagione. Spesso ci si interroga sulle condizioni fisiche di Nainggolan, però abbiamo visto i numeri delle ultime due stagioni, e comunque una trentina di presenze, parlando del campionato, le ha sempre garantite. Quindi un giocatore che ha avuto dei problemi fisici, ma che ha dimostrato una certa costanza nel tempo. Chiudiamo questo primo argomento dunque con Rajan Angolan, che potrebbe rimanere all'Inter. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, dove tutti i giorni siamo in diretta dalle 19, e vi ricordo le due novità che abbiamo lanciato ieri. Innanzitutto il Fantasy Inter, che è partito ufficialmente, abbiamo già fatto oltre 50 iscritti nelle prime ore. Comunque vi invito a guardare giù in descrizione link e informazioni, e il Patreon, sempre di Passione Inter, per avere accesso al gruppo Telegram esclusivo, alle nostre dirette speciali, al Quiz Nera Azzurro esclusivo, e non solo. Potete sostenerci con il Patreon, sempre guardando giù, link e info in descrizione.